Ecco qua, apriamo un video con tanto amore. Allora, se volete un cane che vi lavi la faccia, lei non si fa caso vostro. E' un maiolino. E' un maiolino o sei? Facciamo che il fiocco sia chiuso il giusto giusto. Mezzo centimetro in più non si vedeva. Anche lui ha i denti bianchi. Denti bianchi bianchi. Eros, il cane abbracciatore di professione. Ma adesso resta così tutto il tempo. Mi piacciono dei coccolini. Io comunque sto facendo dei video per adesso. Eros. 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 Seduto. 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 Bravo! Bravo! Eros. 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 Sorry. Com'è bravo. Eros. 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 Vieni! Vieni! Ya si è estancato! Vieni! 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 Che c'è? Ecco! Voi ci stanno mettendo una cambolla? Eh, dopo li facciamo spostare. Poi ci mettiamo di qua. ... ... ando ... Grazie a tutti. Ciao Eros, sei divertito? Sì?